benvenuti in cucina per te la ricetta di oggi è dedicata ai più golosi perché prepareremo dei buonissimi cupcake con kit kat è una crema a caramello vediamo quali sono gli ingredienti e cuciniamoli insieme per sei cupcake occorrono 150 grammi di farina 40 grammi di cacao mezzo cucchiaino di bicarbonato di sodio un pizzico di sale un uovo 190 grammi di zucchero 85 grammi di burro 9 barrette di kit kat 160 ml di latte per la crema 110 grammi di burro 165 grammi di zucchero a velo un pizzico di sale e 50 grammi di caramello in una ciotola uniamo la farina il cacao il bicarbonato e un pizzico di sale mettiamo da parte questi ingredienti e in un'altra ciotola montiamo il burro con lo zucchero aggiungiamo l'uovo poi la miscela di farina e cacao che abbiamo preparato prima alternandola al latte disponiamo i pirottini nello stampo dei cupcake versiamo un po di composto nei pirottini spezziamo a metà il cake cut e lo poniamo al centro del cupcake infine copriamo tutto con un altro po di composto cuociamo i cupcake in forno già caldo 180 gradi per circa 16-18 minuti mentre i cupcake cuociono prepariamo la crema montiamo il burro con lo zucchero a velo e un pizzico di sale infine aggiungiamo il caramello quando i cupcake saranno completamente freddi possiamo decorarli con la crema al caramello e il kitkat e adesso non ci resta che mangiarli per altre speziose ricette come questa iscrivetevi al nostro canale youtube e seguiteci sul nostro sito web un saluto e alla prossima videoricetta un saluto e alla prossima videoricetta e